Ragazzi Lavagna city nel cuore Magliette anima Su shirt si Cristianesimo E buddha E non poteva mancare papa anima Penso di essere abbastanza strano Invece di masturbarmi con Ok basta in segreto Artù guarda Artù cosa? Sto cazzo Versione mates Ti hanno matezonato Bene a tutti animali animali Benvenuti in questo nuovo video Anche io mi sono sperimentato nel google myself E quindi Mi raccomando se volete altri video del genere Lasciate un bel mi piace E scrivetemi nei commenti La parte che mi ha fatto più ridere Ora vi lascio al video Buona visione E per tutti ragazzi e ragazzi Sono anime Bentornati in questo nuovo video Oggi come hanno fatto altri molti youtuber Farò il google myself Ma in cosa con cui si Ma in cosa con Ma in cosa con Ma in cosa consiste il google myself Bisogna cercare se stesso Quindi per esempio la parola anima Il mio nome O ciò che mi rappresenta Su google E vedere che cosa esce Se vi chiedete per colamare il topolino E perché tutti gli youtuber Quando cercano Appare che lo youtuber è gay Quindi togliamo ogni dubbio E facciamo che lo sono per oggi Ehi plato Allora io non mi sono ancora cercato Quindi non so cosa esce E scopriamolo insieme Io direi innanzitutto di scrivere animali Animali con e No anima e basta Anima youtube E va bene Fili c'è il mio canale Minchami Google mi pompa eh C'è anima srg Cos'è un mio fake E' un sito che non si aprirà Ah ecco Ah Che cazzo è Cos'è un giornale online su di me Soluzioni anima Se il percorso E me l'ha tolto Un caffè con i gestori di anima Non ho gestori veramente però Soluzioni anima Se il percorso è già tracciato L'obiettivo è più vicino Anima wikipedia Non sarò mai io per niente Oh mi ha messo pure facebook Mi ha messo Beh diamo un'occhiata anche alle immagini Non è l'anima che cercavo Ah ok direi che questo è meglio Perché la prima che appare è io Che mangio il mio gatto Zoda non c'entra con me Perché esplosioni con me Suri E perché speciale 8-9 iscritti Anima è Fidanzato Anima è un kebabaro 5 euro senza ketchup Anima è immortale Dire di sì Anima è un vocabolo Anima si siberiana Anima si stacca dal corpo Anima si butta in piscina Cioè questo già Sono più io Anima si chiama Sasha Non è Sasha con la senza c La sua anima si è spenta Che succede? Anima che bestemmia Anima che dice il papere Anima che accarezzo la sera C'è qualcuno? Forse l'ha scritto il mio cuscino Sasha Burci Wikipedia Sasha Burci Da bagnino a youtuber Io ce l'ho fatta Minchia zio Ragazzi sono finito Lavagna Wikipedia La città dove abito E perché c'è scritto Sasha Burci? Persone legate a lavagna Sasha Burci Ma hanno sbagliato il mio anno Non sono del 91 Però ho scritto bene il nome E sbagliano l'anno in cui sono nato Non riesco a fare le cose fatte bene Ragazzi i miei nomi sono un iconi politici I nuotatori Gli attrici e regista Ragazzi Lavagna City nel cuore Verrò ricordato nella storia Numero telefonico di Sasha Burci Sa cazzo è sta roba? Numero telefonico di Sasha Burci In non classificato Numero telefonico Favij Numero telefonico di Alessandra Amoroso Ci sono i numeri di loro Meno male non c'è il numero mio Ah nessuno ci ha messo i commenti? Mi sono salvato Sasha Burci è italiano? Di nuovo è fidanzato Mi ha cercato come Anima Come Sasha Nooo Oggi sono gay Con Topolino Sasha Burci informazioni Perché Anima si chiama Sasha? Perché è il mio nome? Se vuoi maggiori dettagli chiedi a mia madre Forse con Anima è troppo generico Dobbiamo richiamarci con il mio vecchio nome Anima Magliette Magliette Anima su Shirt si Cristianesimo Cristianesimo? Cos'è sta roba? Perché ci sono le magliette con Gesù sopra? Gesù a Malbughi? Cos'è sto sito? C'è anche Buddha E non poteva mancare Papa Anima Che bello Gozzanima prova a non ridere? Che cazzo ride Gozzanima primo video? Ma cos'è Gozzanima? Faccio video per divertire meglio della tv Che cazzo di titoli danno? Da cameriera gamer professionista Ma che cazzo scrivono? Primo video di Anima Sono curioso Non credo che questo era il mio primo video C'ho ancora la roba per suonare la musica sul tavolo Gozzanima occhiolino Gozzanima ospedale Perché mi fate ricordare queste cose? Che sotto Gozzanima occhiolino ci sono io Appena uscito dalla piscina Che bello Ormai in ogni foto Stefano viene strozzato al collo Più che altro ragazzi mi sono chiesto Ma su in segreto hanno mai scritto qualcosa su di me? Anima Ma no trovo le parole solo con Anima Ti ho messo l'anima Il mio ragazzo stavamo insieme Che bella l'anime YouTube Ho scopato al bagno della Games Week con un noto YouTuber Non penso di essere io Ma poi come cazzo? Ma poi chiunque l'abbia fatto Come ha fatto? Che sono tipo affollati L'avrò fatto quando non c'era la fiera immagino Frequento spesso YouTube Ho scoperto che un ragazzo del mio paese 747.000 iscritti E fa gameplay Siamo lì L'ho appena superato Ed è il 19 ottobre Quanti iscritti avevo il 19 ottobre? Il 18 ottobre avevo 761.000 iscritti Non penso di essere io L'assurdo è che il tipo È lo stesso Che quando becco un giro Mi lancio occhiate Come se volesse spogliarmi Forse è più surri Torno a giocare a Minecraft Che è meglio Ma cosa? Ah Mia figlia adora degli YouTubers italiani Chiamati Mates Passa l'ora davanti al computer Guardare il video Il segreto? Le sto organizzando un incontro privato con tutti loro Per il prossimo evento che faranno a Milano Se lei è felice così Io sono felice con lei Ah che carino Portami pica Penso di essere abbastanza strana Invece di masturbarmi con... Ok basta in segreto Visto che su Google Comunque trovo poco con Anima Visto che Anima è una parola abbastanza ricercata E non esisto solo io Andiamo a vedere i post che mi fanno sulla mia pagina Ok Perché questo mi sta facendo vedere le regioni d'Italia? Ah a questo gli ho messo la domanda nel video Ti amo papere! Perché? La logica di YouTube 20 visualizzazioni 12.000 mi piace Ve lo devo veramente spiegare YouTube deve calcolare che quelle visualizzazioni siano reali Perché esistono dei programmi, dei siti che paghi E ti danno delle visualizzazioni false Fatte appunto da computer e non da persone Quindi YouTube deve calcolare che realmente Quelle visualizzazioni siano persone come voi che mi state guardando E non computer Per quello vedete in ritardo Mentre mi piace sono in tempo reale Ciao Ciao Ah quando ho fatto la torta con la mia foto Un vero animale Anima Artù guarda Artù cosa? Il sorriso perfetto di chi sta leggendo Stavo che dicesse Artù guarda Artù cosa? Sto cazzo E subito dopo Quella battuta era bella Ma tu mi stai sul cazzo e quindi non riderò E riesco a starmi sul cazzo da solo I problemi di punteggiatura ragazzi Hai mai preso in giro un membro dei mates Facendoli uno scherzo Blablabla Se sì Quella è stata la lezione Se no Fallo grande anima Mi saluti verso un milione Quindi tu vorresti che ti salutassi Quando sarò quasi a un milione di iscritti Senza virgole Da youtuber a porno starla Sabri La free handzone Versione mates Ti hanno un mate zonato Ok che vuoi fare? Niente Dai qualsiasi cosa Ti piacciono i mates? Non so chi sono Allora non hai il diritto di parlarmi Prima guardi un loro video E dopo mi parli Ciao Dai No no mi spiace Prima vai a conoscere i mates E dopo avrai il diritto di parlarmi Ciao ciao Mate zonato cazzo Povero Alessio Antonino mi dice Mi dai il tuo numero? Facciamo così Visto che me l'avete chiesto milioni di volte Vi darò finalmente il mio numero Aspetta un secondo eh Lo devo prendere dalla tasca I disegni dei mates 8 semplici modi Per cacciare i testimoni di Geova Cosa c'entra sulla mia pagina? Io penso che questo Google myself Facebook myself Cerca anima myself È finito Io spero che questo video vi sia piaciuto Se è così Quel pollicione in su Lasciatemi un commento Sulla parte magari che mi ha fatto più ridere E quindi noi ci si becca Domani con un nuovo video Stay angry Stay animals Yeah